Non smettere di sognare, è tempo di libertà. Suzuki Vitara, il tuo stile di vita. Tu ha 17.700 euro. Siamo con Drudi, allenatore della Osta 511. Mister, per la situazione di classifica direi che forse oggi sono due punti persi. Assolutamente sì, direi anch'io. Anche se siamo una neopromossa tramite ripescaggio, quindi i nostri obiettivi non sono sicuramente quelli di vincere il campionato, sono quelli di una costruzione di una squadra giovane. Infatti se andate a vedere la distinta della mia squadra ci sono sette fuori quota in campo. Il progetto è questo, abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato sicuramente molto più di loro in zona gol. Abbiamo anche rischiato di perdere, perché c'è stato un salvataggio sulla linea. Diciamo che nel finale di partita si è un po' aperta ai loro contropiedi e abbiamo rischiato qualcosina in più. Però nel contesto dell'arco della partita sicuramente due punti persi, assolutamente. Anche perché mi sembra che la caratura delle due squadre sia diversa, assolutamente. Parlando di finale della partita, direi che è appunto il primo tempo molto equilibrato, molto chiuse tutte e due le squadre, nel secondo tempo molti più contropiedi e anche un po' di stanchezza forse. Sicuramente il campo pesante non ha aiutato. Oggi avevo comunque anche parecchie defezioni, infatti avevo solo tre sostituzioni, di cui uno che ho provato a metterlo in campo, dopo un po' mi ha richiesto il cambio perché non era ancora pronto, che poi è il nostro miglior giocatore offensivo e sicuramente la sua assenza si sente. È andata così, andiamo avanti, pensiamo già alla prossima via.